Cuoce il salmone a microonde in 4 minuti, ve lo spiega la nostra Pauline Metti i tranci di salmone in un piatto fondo Condisci con olio d'oliva, sale e pepe Copri il piatto con la pellicola alimentare, ma verifica che si adatta alla cottura a microonde Direzione microonde, imposta per 4 minuti a massima potenza Togli la pellicola facendo attenzione a non scottarti Pronto, servilo con del riso o con delle verdure